Oggi parleremo di pesca in mare con il campionato italiano società canna da riva e campionato italiano femminile surf casting ed eccellenza nord sempre di surf casting Parleremo inoltre di pesca al colpo col trofeo di serie A3 e anche di feeder col trofeo d'eccellenza nord Un'ampia pagina dedicata poi anche alla pesca alla trota e tante tante altre notizie dal mondo Fipsas Cari amici benvenuti a questa puntata numero 3 del TG Fipsas Una puntata primaverile In studio come sempre Luca Caslini e Michela Malossi Michela appunto oggi è particolarmente tutta piena di fiori Un po' country Un po' country per questa primavera che esplosa questa bella stagione che arriva e che ci regala tante giornate di pesca e partiamo subito con una notizia delle più belle una notizia dedicata ai più giovani una notizia dedicata a una scuola di pesca fatta dalla nostra federazione per i più giovani Martedì 25 aprile presso l'impianto sportivo associato Fipsas denominato i Laghi Segugio in provincia di Cremona a Pizzighettone si è svolta con grande successo la manifestazione annuale denominata Rainbow Day organizzata dalla società Codogno 80 e dedicata ai bambini dai 4 ai 15 anni All'interno di questo evento sono stati inseriti due corsi federali di pesca in collaborazione con la sezione Fipsas di Lodi molti i bambini che hanno partecipato all'evento accompagnati dai genitori alcuni dei quali hanno avuto modo di conoscere per la prima volta il mondo della pesca altri invece hanno approfondito le loro conoscenze di base sia per quanto riguarda la tecnica feeder che per quella della pesca al colpo La buona riuscita della manifestazione è stata garantita anche dall'impegno di alcuni pescatori qualificati componenti delle società organizzatrice tra cui il presidente Stefano Fontana Fabio Sisti, Giovanni Pedone dello staff della società Codogno 80 ed altri pescatori provenienti dalla società Team LBF Italia in particolare per la tecnica feeder Particolare attenzione che tutti i presenti hanno dimostrato nei confronti dell'attività messa in essere anche grazie al supporto ricevuto dalla sezione Fipsas di Lodi nella figura del presidente Redolfi e dalla disponibilità dei gestori dell'impianto di pesca Sicuramente nel futuro immediato seguiranno altre attività Fipsas sul territorio nazionale dedicate ai giovani e a tutti i tesserati Parliamo ora del campionato italiano Società Cannadariva In provincia di Trieste, alla diga foranea Sponda Luigi Rizzo Lato Nord si è svolta il 7 maggio la prima prova del campionato italiano di società con canna da riva organizzata dalla società nautica Laguna 14 le squadre in gara che si sono affrontate in una giornata molto piacevole con sole e a tratti velata soprattutto durante la prima parte di gara dove era presente una leggera brezza e mare calmo La distanza di pesca andava da parete diga fino a una decina di metri per chi pescava con bolognese, fissa e a fondo invece fino ad una trentina di metri per chi lanciava con la bombarda La pescata è stata caratterizzata dalla cattura di prede di minutaglia principalmente del fondale misso sottostante quali sacchetti e ghiozzi da registrare anche qualche cattura di aguglia, occhiata e tanuta L'azione di pesca è stata praticamente costante durante l'arco delle tre ore di gara Si aggiudica il tricolore 2017, la società Amici del Mare seguiti dalla Lenza Salentina Colmice e dal club Pesca Cervia Ed ora parliamo di pesca al colpo con il trofeo di serie A3 che si è svolto lunedì 1 maggio sul Canal Bianco di Loreo organizzato perfettamente dalla società futura Duemira Colmice e diretto dal giudice di gara il signor Paolo Bettella Ben 50 le squadre provenienti da Toscana ed Emilia che si sono sfidate in questa prima prova suddivise su entrambi i lati del canale in una giornata molto ventosa come spesso accade da queste parti Un canale sempre molto difficile da interpretare questo in cui le maree determinano il pescato I 200 concorrenti pescando a Rubesien hanno utilizzato galleggianti a vela nei pesi compresi tra 2 e 15 grammi facendo un buon fondo iniziale di pastura farcita con bigattini morti e caster data a mano e terra carica di fuil data con l'utilizzo della scodella Qualcuno ha cercato il jolly nel sottoriva pasturando con i bigattini in colla alla ricerca di qualche bel siluro Le Brem si sono dimostrate molto più presenti nel lato chiatte e meno nell'altra sponda dove ha prevalso la cattura di siluri e carpe Comunque il canale ha regalato una pescosità decisamente buona e per vincere i rispettivi settori era necessario fermare il lago della bilancia oltre i 5 kg con punte anche oltre 10 kg di pescato Dopo le 4 ore di gara sono stati i ragazzi della Pasquino Colmica La scuola ha permesso di interpretare al meglio queste acque totalizzando 8 penalità seguiti dalla squadra B dell'Aglianese Colmice e dalla borghigiana Pellicano Maver entrambe con 9 Quarta anch'essa con 9 penalità ma giù dal podio per il peso inferiore la squadra A sempre dell'Aglianese Colmice Prossimo appuntamento sul Cavolama il 18 giugno Ed ora cari telespettatori un interessante filmato sul campionato italiano femminile di surfcasting La società Rosa dei Venti ha organizzato il 28 e il 29 di aprile il campionato italiano femminile di surfcasting a Mondragone in provincia di Caserta 24 le concorrenti in gara che hanno dato vita ad una competizione molto intensa e molto corretta L'unica nota negativa purtroppo è venuta nelle pessime condizioni del mare con acqua sporca e la presenza di molta corrente condizioni che hanno fatto diminuire le catture durante la competizione A causa di queste condizioni meteorologiche le pescatrici hanno dovuto utilizzare piombi da tenuta come piramidi e sfere e fili di diametro maggiore Le poche catture, in prevalenza mormore, spigole e qualche ombrina sono avvenute pescando sulla cortissima distanza dalla riva oppure sulla lunga distanza dietro il frangente delle onde Conquista il titolo di campionessa d'Italia 2017 Arcangela Campanile della società Hippocampus Club con 4 penalità seguita sul podio da Vincenza Lubrano della Fenice con 6 e infine bronzo per Chiara Falchi della Longobarda che chiude con 8 penalità in mezzo Purtroppo le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato e non hanno aiutato le ragazze devo comunque ringraziarle tutte pubblicamente perché sono state splendide hanno pescato per due giorni in condizioni veramente precarie Poco pesce da ricercare soprattutto condizioni non perfette per questo tipo di litorale però diciamo che come sempre accade le spigole quando c'è il mare un po' difficile aiutano parecchio Passiamo ora a parlare di feeder andiamo nel canale Brian a Stretti di Eraclea in provincia di Venezia che ha ospitato domenica 7 maggio la prima prova del campionato di eccellenza Nord feeder organizzato in maniera perfetta dalla società Papa Colmich 40 le squadre ai nastri di partenza in rappresentanza delle più importanti società di feeder del Nord Italia i 160 agonisti suddivisi sul campo di gara in quattro zone si sono trovati davanti a un canale molto difficile ma che ha saputo regalare belle soddisfazioni a chi è riuscito ad interpretarlo al meglio fin dalle prove ufficiali del sabato dove i pescatori per la prima volta in questo campionato erano suddivisi in box si era capita la difficoltà della competizione nonostante il canale abbia regalato diverse catture soprattutto di brem, carassi, cefali, carpe e siluri ma il Brian a causa di mille variabili risulta sempre un campo di gara molto complesso ed infatti i garisti hanno impostato ben tre linee di pesca una sui 15-20 metri una sotto il gradino della sponda opposta a circa 36-38 metri e l'altra attaccata alle canette le lenze erano montate con pasturatori del tipo open-end, bullet feeder, rocket e gabbiette in plastica e ferro di grammature da 30 fino a 45 grammi dove al loro interno veniva inserita pastura di colore nocciola oppure bigattini incollati per insidiare carpe e siluri in molti erano preoccupati per le condizioni del colore dell'acqua in quanto la sera prima della gara sul canale è piovuto molto ma fortunatamente questo non ha modificato in maniera negativa le sue condizioni all'inizio della competizione le mangiate si sono fatte attendere soprattutto nella prima e seconda zona dove la pescata è stata a senso unico sulla cattura di brem carassetti e qualche cefalotto non di taglia importante con l'uscita abbastanza rara di qualche bella carpa nell'ultima ora di gara che ha stravolto i settori invece la terza e la quarta zona sono state più pescose ed in queste zone ha prevalso la cattura di carpe e siluri quest'ultimi anche di oltre 10.000 punti come quello guadinato dal Luca Baruffaldi del gambero Milord Maver alla fine il team LBF Italia squadra A composta da Angelo e Massimiliano De Pascalis Mirko Govi e Cristian Gadda con 9 penalità si aggiudica questa prima prova seguita dalla Lanza Fishing Italia squadra D anche loro con 9 penalità e terzi i campioni d'Italia uscenti dell'Alto Panaro Sensas con 13 punti quarta piazza per i ragazzi della medicinese Tubertini con 14 punti e quinta la Lenza Emiliana Tubertini con 15 punti la classifica individuale di giornata è stata conquistata da Fulvio Forni del CC Vicenza Colmice che ha totalizzato il maggior peso assoluto con 10.580 punti prossima prova a luglio sul Cavolama parliamo ora del campionato italiano coppie carp fishing girone A nell'ultimo weekend di aprile il canale Brian in provincia di Venezia ha ospitato la tre giorni del campionato italiano di carp fishing girone A organizzato dalla società La Fernice Carp Fishing Club la competizione si è svolta per la precisione in località stretti di Ericlea dove gli agonisti avevano a disposizione delle postazioni comode e distanti tra loro circa un centinaio di metri ben 40 coppie si sono sfidate in queste acque e che si sono trovate ad affrontare un canale molto difficile a causa dell'abbassamento della temperatura dell'acqua che ha fatto diminuire le catture infatti i giorni antecedenti alla competizione sono stati molto molto piovosi e hanno causato l'inalzamento del livello dell'acqua di circa 80 centimetri e questo fattore ha costretto i partecipanti a pescare con zavorre anche di 300 grammi solo nelle ultime ore di gara le condizioni si sono normalizzate ma nonostante tutto il totale di pescato è risultato di oltre 240 kg con 57 pesci catturati 53 carpe regine e 4 carpe a specchi si laureano campioni d'italia la coppia formata da Federico Boldrin ed Enrico Maniero della società Master Carp argento per Michael e Dennis Babul e bronzo per Simone Buffoni e Mirko Sbravati del Carp Fishing Club Alza la Coda e ritorniamo a parlare del campionato italiano a coppie di Carp Fishing ma questa volta passiamo al Girone B che si è svolto in località Bondeno in provincia di Ferrara nei tre giorni dell'ultimo weekend di aprile ed organizzato dalla società Cavalletta Milo 37 le coppie effettive che hanno partecipato alla manifestazione le quali hanno dovuto affrontare soprattutto nella prima giornata di gare molto vento che ha disturbato parecchio l'azione di lancio fortunatamente nei giorni seguenti le condizioni meteorologiche sono migliorate la maggior parte delle catture è stata rappresentata da carpe regine anche di peso superiore ai 10 kg e sono state effettuate utilizzando canne che potessero lanciare pesi fino a 5 libre arrivando così a pescare ad una distanza di circa 140 metri Jonathan Pollacchini e Simone Ferrari della società Anonima Carpisti Ferrara si sono aggiudicati il titolo iridato con 39.740 punti e con 8 catture argento per Pietro Roy e Gabriele Gallagini del Carp Buster Fishing Team e bronzo per il duo formato da Matteo Marchionni ed Andrea Casoni anche loro della Anonima Carpisti Ferrara e ora iniziamo ad aprire l'ampia pagina dedicata alla pesca alla trota e iniziamo a parlare della selettiva individuale trota lago zona A1 domenica 23 aprile presso il lago Fipsas di Novara si è svolta la selettiva individuale di trota lago per la zona A1 organizzata dalla società Creazioni Guido Tubertini le condizioni meteorologiche favorevoli hanno permesso ai 160 agonisti di catturare molti pinnuti superando i 372 kg di pescato totale la gara nei primi turni si è svolta pescando nel sottorriva con grammature da 3 a 5 grammi per poi verso metà gara i partecipanti sono stati costretti ad allungarsi lanciando verso il centro del lago e pescando a galla con bombarde da 10 a 20 grammi e con calate da 2 a 4 grammi a guidare provvisoriamente la classifica individuale è Timoti Di Lernia del Monviso Tubertini Sagip con 40 pesci catturati e 44.235 punti seguito da Marco Brambilla della Seveso Colmich con 37 pesci e 40.680 punti e infine terzo Andrea Tamagni della Soffritti Tubertini Sagip con 36 catture e 39.610 punti ed ora trofeo di eccellenza centro-sud per squadre di pesca alla trota con esche naturali in lago nella prima domenica di maggio sul lago del Sero in provincia di Perugia si è svolta la seconda prova del trofeo di eccellenza centro-sud Italia per squadre di società di pesca alla trota con esche naturali in lago nelle prime fasi di gara con il pesce in superficie i 60 garisti hanno pescato con coroncine da 3 grammi e piombini in velocità poi le trote spostatesi verso il centro del lago ma mantenendosi alte hanno obbligato i partecipanti a pescare con bombarde di superficie e maracas invece nella seconda parte di gara le trote sono scese in profondità a causa dell'innalzamento della temperatura e pertanto i pescatori hanno utilizzato i cosiddetti razzetti di piombo tecnica molto apprezzata e usata in questo periodo nel lago Sero si aggiudica la prova di giornata alla società Alta Pintus con 6 penalità argento per il top team e bronzo per la società Saline Blu entrambe con 8 punti guida la classifica provvisoria all'Alta Pintus con 13 penalità e mezzo seguita dalla Cannisti Prima Porta e dal top team ferme a quota 17 punti e mezzo e ora parliamo dell'eccellenza nord Trota Lago sul lago Cronovilla in provincia di Parma si è svolta domenica 7 maggio la seconda giornata del campionato italiano di eccellenza nord di Trota Lago perfettamente organizzata dalla società Valenza 30 le squadre in gara alle quali il lago ha regalato molte catture in tutte le sponde pescando le trote nel sottoriva oppure a tiro di bombarda a Bolognese con grammature fino a 20 grammi e in alcuni casi anche a Corona la Seveso Colmich con 6 punti si aggiudica a questa prova seguita da Soffritti Tubertini Sagip che al momento guida la classifica provvisoria e dal Fischer Max Milo entrambe con 7 penalità Ed ora campionato italiano individuale over 50 di pesca a Mosca sulla splendida cornice del lago Murei Sogne in Valle d'Aosta si è svolto sabato 6 e domenica 7 maggio il campionato italiano individuale over 50 di pesca a Mosca a questa competizione hanno partecipato i migliori 40 atleti provenienti da tutta la penisola il lago preparato in modo esemplare da Roberto Giorgi e dal suo gruppo è stato all'altezza della manifestazione organizzata dal team di Bergamo questo campionato italiano è stato molto tecnico ed ha messo a dura prova le capacità degli atleti che per catturare le trote iridee di questo lago hanno dovuto utilizzare code di topo affondanti e galleggianti lanciando anche fino a 40 metri di distanza dopo due giorni di gara serrati la spuntata Massimo Clini del Amodoro Torino su un combattivo Maurizio Gioia della Gabbiani di Varese al terzo posto troviamo Walter Lazzarato della Old River di Torino i neocampioni del mondo Dona Edgardo e De Martinis Matteo si sono piazzati rispettivamente al quinto ed all'ottavo posto il CT Pierluigi Cocito e il responsabile federale Antonio Frassine hanno potuto verificare in questa gara la preparazione degli atleti in vista dell'imminente campionato del mondo che si svolgerà in Portogallo e ora torniamo a parlare della pesca in mare vediamo insieme un filmato che riguarda il trofeo d'eccellenza a nord di surf casting sempre nel primo weekend di maggio ma a terra Cina in provincia di Latina si è svolto il trofeo di eccellenza a nord di surf casting organizzato in maniera eccellente dalla società Nuovi Orizzonte comitato di Frosinone 65 sono state le squadre che hanno partecipato alla competizione sulle 67 a 20 diritto che si sono sfidate in due giornate soleggiate ma con temperature rigide utilizzando canne di grammatura medie e catturando soprattutto mormore sulla media e lunga distanza alla fine è stata la società Cecina ad aggiudicarsi il trofeo con 14 penalità seguita dal surf casting a Marinella di Sarzana con 15 e terzo posto per la Pegaso Special Fishing con 18 punti Ed ora andiamo al nord andiamo nelle splendide valli bergamasche e più precisamente sul lago d'Endine per parlare della Coppa Italia a squadre predatori da natante e a tale riguardo abbiamo delle bellissime immagini un bellissimo filmato preparato per Italia Fishing TV il bellissimo lago di Endine in provincia di Bergamo ha ospitato domenica 7 maggio la Coppa Italia a squadre predatori da natante organizzato dalla Predator Fishing Club per la prima volta questo lago ha ospitato un'importante manifestazione di pesca a spinning dalla barca in questa occasione 20 sono state le barche in gara con due pescatori su ognuna di esse il tempo incerto non ha rovinato questa bella gara con tecnica spinning e casting che ha regalato diverse catture di luci, luciperca e persici pescati nel sottoriva o sulla sponda opposta oppure anche al centro del lago dalla barca con l'ausilio di motore elettrico vince questa Coppa Italia la società Predator Fishing Club di Bergamo con 682 punti, argento per i pescatori Lago di Vico con 216 punti ed infine bronzo per la 100% spinning varese con 173 punti il premio Big Fish va a Corny Angelo della Predator Fishing Club con un lucio da 90 cm e il migliore equipaggio classificato che passerà direttamente al Club Azzurro è stata la coppia formata da Cappezzuto Cominelli sempre della società Predator Fishing Club con 7 catture per 379 cm ed ora parliamo del campionato italiano individuale Signores di Pesca con esche artificiali da riva che si è attenuto sul fiume Biferno a Castro Pignano in provincia di Campobasso il 30 aprile nel fiume sono state immesse ben 320 kg di trote fario e la pescata è risultata molto omogenea tra gli otto settori in cui si è gareggiato la classifica finale ha visto primeggiare Marco Spadolini della Ripa Limosani con 34 catture ed oltre 39.000 punti seguito da Pierluigi Iachini dell'Alto Chiascio Spinning Division con 26 catture e infine Massimo De Salvo della società Alto Aignene con 25 catture e parliamo ora di Bilancella una specialità molto diffusa nella pianura padana e infatti parliamo nello specifico del campionato italiano individuale di Bilancella che si è svolto domenica 30 aprile sul canale Fossalta Superiore in località Vallazza di Magna Cavallo in provincia di Mantua una bella giornata di sole ha accolto i partecipanti che si sono sfidati nelle acque di questo canale per la conquista del Tricolore 2017 su tutti la spuntata Selvino Flori della Reggiolese Maver con due penalità seguito da due agonisti tesserati con la società La Foca Evres Bondavalli secondo con tre punti e Pierino Pietri terzo con quattro penalità ottima l'organizzazione da parte dei ragazzi della società La Torre Ed ora un bellissimo filmato che riguarda il campionato italiano a drifting per società Si è svolto dal 4 al 7 maggio nella splendida cornice del mare Adriatico al largo di Marina di Ravenna il campionato italiano a drifting per società Al via si sono presentati ben 40 equipaggi in rappresentanza di 18 società che hanno profuso il massimo impegno per portare a casa questo ambitissimo titolo Le condizioni del mare sono stati ottimali nella giornata di venerdì mentre al sabato le condizioni del mare più complesse ed una perturbazione in arrivo con forte vento previsto ha costretto la direzione di gara a ridurre preventivamente la gara da 7 a 5 ore regolarmente disputate Le catture sono state un'ottantina per quanto riguarda i pesci allamati in prevalenza a tonni che poi si sono concluse positivamente in una sessantina di casi Altre catture sono state invalidate in sede di verifica attrezzature e testa Società terza classificata Lega navale italiana Mola di Bari Medaglia di bronzo al campionato italiano drifting società 2017 Al termine della Kermes vince questa edizione 2017 del campionato italiano a drifting per società la ASDB Game Estense della sezione provinciale di Forlì con 6 catture valide Secondo posto per la ASDB Rillo Scuba Fishing di Venezia e terza piazza per la Lega navale italiana Mola di Bari Da ricordare che come previsto da regolamento tutti i pesci catturati sono stati misurati e prontamente rilasciati Sono state due giornate bellissime, purtroppo il tempo non c'è stato proprio proprio clemente abbiamo dovuto fare la seconda giornata di 5 ore invece di 7 comunque nel contesto ci sono stati diversi rilasci e la velocità di tutte queste squadre lo si sente da sottofondo è stata un'emozione grandissima sia ieri che oggi per un raggiungimento di un obiettivo che ormai speravamo da anni perché comunque è una cosa grande e ci tenevo io a ringraziare personalmente mio papà perché sicuramente non sarei arrivato a questo livello se non ci fosse lui e ringrazio tutto il team per tutto quello che abbiamo fatto Ed ora cari telespettatori un interessante filmato che riguarda il campionato italiano bancari ed assicurativi 30 euro? No, lo mettiamo all'interno viene sorteggiato, chi non si presenta? Con la prima prova svoltasi sabato 6 maggio nel collettore padano ad Adria ha preso via l'edizione 2017 del CIBA, il campionato italiano bancari ed assicurativi Il canale ha risposto in maniera strepitosa la pressione dei 60 agonisti in gara regalando tantissime catture di breme di taglia compresa tra i 100 e i 500 grammi e con una media pescato pro capite di oltre 5 kg L'acqua ha viaggiato lentamente verso sinistra per tutta la durata della gara e i pescatori hanno utilizzato lente di peso compreso tra il grammo e i 2 grammi Le breme del collettore hanno risposto molto bene alla pasturazione ma questa doveva essere effettuata con piccole quantità in rapida successione e doveva essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo del cutting kit per evitare di disturbare con il rumore le breme di taglia maggiore Al termine delle tre ore di gara a vincere la prova con 9,5 penalità sono stati i ragazzi di Banca Anton Veneta capaci di sfruttare il fattore casa ed andando a vincere la prova per il secondo anno consecutivo Dietro di loro a solo mezzo punto di distanza troviamo Banca Mediolanum che realizza anche il maggior peso assoluto di giornata con il nostro conduttore Luca Caslini capace di portare alla pesa oltre 14 kg di sole e breme Terza piazza per Banca Popolare Emilia Romagna che insegue con 16 penalità prossimo appuntamento il 20 maggio nel Cavolama a San Marino per la seconda prova di questo Ciba 2017 E con quest'ultima notizia che riguardava il Ciba si chiude questa puntata del TG Fipsas in questa notizia tra l'altro ringrazio Michela che mi ha citato Assolutamente, volevo farti complimenti da parte di tutti in bocca al lupo per la prossima gara del 20 maggio Grazie mille Michela, speriamo che questo in bocca al lupo possa portarmi bene Come ho detto si chiude questa puntata numero 3 Ah si dice crepi il lupo Chiudiamo questa puntata numero 3 del TG Fipsas Ci auguriamo che vi sia piaciuta e l'appuntamento ovviamente è per la prossima puntata tra 15 giorni Grazie di averci seguito, arrivederci Grazie a tutti